Tornano sul palco, Guy e Marco per un ballo lentamente, decisamente più delicato, a voi per le danze standard di Balzer Lento. Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep, her soft hand reached out. She whispered my name and she brushed the tooth on my cheek. And then those funny familiar, oh, I'm feeling stuck walking all over my mind. It's sad, so sad, to watch love go red, but a true love would not have gone wrong. And I'm just thankful for the good times we've had for without them I could not go. Grazie Marco Italia, venite qua, venite qua, venite qua, non vogliamo un attimino conoscervi, o meglio, conoscere il vostro insegnante. Chi è il vostro insegnante? Agostino Viotto. E com'è quando fa lezione questa signora Agostino Viotto? Un po' arrabbiato. E perché è un po' arrabbiato Marco? Non lo sai tu, perché si arrabbia? Perché sbagliate. Ah, ecco, perché sbagliate. Però glielo avete detto al maestro Agostino Viotto che facendo una lezione a settimana da novembre, oggi voi avete imparato sei balli? No. Non glielo avete detto. Quindi ringraziatelo adesso. Grazie, Adesso loro vi presentano il tango della pantera rosa.